professore eduardo galeano ha scritto nel mondo gli affamati sono tanti quanti i grassi gli affamati mangiano spazzatura nelle discariche i grassi mangiano spazzatura da mcdonald's quella del grande scrittore uruguayano è una frase molto amara mi verrebbe da dire che evidenzia però un paradosso reale della nostra società dove appunto ormai siamo una società di otto miliardi di persone estremamente diseguale dove una parte muore di fame e l'altra invece vive e mangia troppo e male soprattutto su questo secondo aspetto il mangiare troppo e male l'organizzazione mondiale della sanità lancia l'allarme rispetto alla malattia definita globesità considerata alla stregua di una pandemia nel mondo occidentale in particolare ma non solo un'alimentazione non corretta porta sempre più persone ad essere sovrappeso o addirittura obese ovviamente con una serie di gravi conseguenze sulla salute è ormai da più di vent'anni si analizzano i dati e si registra questo incremento di questo fenomeno ma di fatto non vengono attuate misure strutturali capaci di invertire la rotta pur sapendo che appunto il sovrappeso è un fattore di rischio è un fattore che favorisce molte malattie dell'obesità delle sue cause delle conseguenze e delle cure ne parliamo oggi con la nostra ospite claudia pensavecchia dietista nutrizionista molto seguita sui social come quasi dietista claudia claudia è un vero piacere averti qui con noi ciao daniele ciao alberto è un piacere per me essere qui bentornati a doi denominazione di origine inventata il podcast di alberto grandi e daniele soffiati che vi svela tutta la verità nient'altro che la verità sulla tradizione un po raffazzonata della cucina italiana prima di cominciare claudia togli una curiosità perché quasi dietista tu sei dietista sì sono dietista però ho studiato nutrizione inizialmente in germania e quando sono tornata in italia ho avuto problemi con il riconoscimento del titolo quindi qualche qui procuoco il ministero della salute e quindi ho dovuto riprendere la laurea in italia e nel frattempo questa sindrome dell'impostore che comunque non mi lascia però all'epoca ovviamente era ancora più forte non volevo chiamarmi dietista sui social mentre parlavo di nutrizione così quasi dietista è stato diciamo la mia decisione all'epoca e poi è rimasto come feticcio mi piace fa ridere un po' e quindi così claudia io partirei da una domanda apparentemente banale ma a noi piace non dare mai nulla per scontato cos'è l'obesità? allora l'obesità è per definizione una malattia cronica determinata da molti fattori diversi che è caratterizzata da un eccesso di grasso corporeo che comporta dei problemi per la salute è un'altra faccia della malnutrizione di solito per malnutrizione uno pensa subito a quella per difetto ma in realtà esiste anche quella per eccesso ora la definizione che ho citato è lunga ma l'ho detta tutta per un motivo cioè tutte le particelle che io ho detto quindi è cronica è determinata da molti fattori è caratterizzata da un eccesso di poso che crea malattia queste sono tutte importanti ogni volta che qualcuno la taglia corta in realtà sta facendo un danno comunque sta dicendo una cosa non esatta tra i criteri diagnostici dell'obesità c'è l'indice di massa corporea che tutti chiamano BMI all'inglese Body Mass Index però indice di massa corporea in italiano che è un calcolo molto semplice si basa sul peso in chili e l'altezza in metri che poi ti classifica in sottopeso, normopeso, sovrappeso, obesità di primo, secondo e terzo grado e questo è vero che è un criterio diagnostico ma bisogna stare attenti a non confonderlo con la malattia ma dopo ne parliamo poi per completezza diciamo accademica nei bambini e negli anziani si usano altri indici in altre popolazioni rispetto alla nostra si usano altri indici e questo un po' forse fa capire che ci sono dei limiti ovviamente e bisogna essere coscienti del fatto che è più utile a fini epidemiologici e statistici quindi per capire dove si sta muovendo una popolazione piuttosto che per il singolo Claudia ma ci spieghi perché si usa il termine epidemia dell'obesità? L'epidemia a me farebbe venire in mente le malattie virali o batteriche e comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cognato il neologismo globesità Allora questo è il motivo per cui a me non piace la parola epidemia associata all'obesità perché appunto richiama quest'idea di malattia virale trasmissibile che purtroppo poi ci porta ad assumere un atteggiamento stigmatizzante nei confronti dell'obesità così come in passato sono stati fatti errori simili con altre patologie come il cancro, l'HIV e quindi si va ad associare molti caratteri, aggettivi negativi alla persona quindi la promiscuità, l'epoca, adesso la pigrizia eccetera ma di questo poi parliamo dopo però è vero l'OMS ha dovuto riconoscere che c'è un numero sempre più alto di persone nel mondo in sovrappeso o con obesità nella fattispecie 800 milioni di adulti al momento che diventeranno più di un miliardo nel 2030, nel 2025 dipende poi dalle stime quindi i numeri stanno crescendo purtroppo stanno crescendo tanti i numeri dei bambini e adolescenti addirittura dal 75 al 2016 i numeri sono quadruplicati questo ovviamente ci fa alzare le antenne su questo problema e devo dire che la scelta dell'OMS probabilmente è determinata anche dal fatto che almeno sottolineano l'urgenza di prendere la cosa un pochino più seriamente e non con tutta una serie di consigli banali, paternalistici e molto vaghi come abbiamo fatto finora la cosa diciamo secondo me che colpisce è che ormai tutte le regioni mondiali tranne l'Asia e l'Africa subsahariana hanno più numeri di sovrappeso e obesità che di sottopeso prima era un problema che riguardava solo i paesi ricchi adesso invece quelli a medio e basso reddito cominciano ad essere molto interessati dal fenomeno Claudia ho capito bene tra il 1975 e il 2016 il numero dei bambini e degli adolescenti obesi è quadruplicato sì allora permettimi di fare un piccolo appunto attualmente si preferisce usare un linguaggio incentrato sulla persona piuttosto che sulla malattia e quindi si dice persone con obesità, adulti con obesità, bambini con obesità non solo nell'obesità ma anche in altre patologie perché si cerca di porre l'accento sul fatto che le persone con obesità sono molto più del loro peso e si cerca anche di sottolineare diciamo i punti di forza che hanno piuttosto che i deficit oppure etichette diagnostiche comunque sì anzi la prevalenza di bambini e adolescenti è più che quadruplicata in realtà passando dal 4 al 18% a livello globale e dato che appunto parlavamo di paesi ad alto reddito, medio reddito nei paesi a medio e basso reddito il tasso di aumento è stato superiore al 30% rispetto ai paesi diciamo ad alto reddito quindi c'è un aumento drammatico di questi numeri Claudia ancora una volta senza dare nulla per scontato ma quali sono le cause dell'obesità? So che è una domanda difficile e perdonami dai allora l'aumento ponderale quindi l'aumento di peso è un meccanismo complessissimo di cui ancora non sappiamo tutto allora sicuramente noi riceviamo dei segnali esterni ed interni abbiamo degli ormoni per esempio come la leptina e la grelina che ci dicono hai fame o non hai fame e in teoria poi l'ipotalamo coordina una parte del nostro cervello coordina le nostre risposte quindi banalmente mangiamo o non mangiamo se tutto funziona così bene c'è un si dice un equilibrio omeostatico ovvero un equilibrio non fisso un equilibrio che può cambiare che però ci porta appunto ad avere un equilibrio tra le entrate e le uscite detto proprio papale papale però queste cose sono determinate geneticamente quindi se c'è un problema x a un gene questa cosa già non funziona più e quindi chiaramente non è così semplice dire mangia di più mangia di meno perché c'è qualcosa che proprio non funziona a livello di sistema di comunicazione infatti all'inizio dicevamo che l'obesità è una malattia determinata da una serie di fattori e infatti abbiamo fattori genetici e fattori ambientali si dice e i fattori genetici concorrono dal 40 al 70% della causa dell'obesità quindi non bruscolini e poi il resto sono fattori ambientali quindi il cosiddetto ambiente obesogenico quindi un ambiente che ti porta a incamerare più energia di quella che ti serve fondamentalmente e ci sono tutta una serie di studi che ci fanno vedere quanto centri quanto diciamo sia importante il fattore genetico molti studi sono stati fatti su gemelli o mozigoti che sono stati separati alla nascita adottati e si vede che fino a una certa età e l'ambiente per esempio se la famiglia adottiva aveva uno stile di vita sano e il bambino aveva un indice di massa corporea nella fascia del normo peso appena il bambino usciva di casa o comunque cominciava a interfacciarsi con l'ambiente con il gruppo dei pari eccetera l'indice di massa corporea si avvicinava a quello della madre biologica facendoci capire che c'è un fattore genetico ma individuare il fattore genetico come un elemento così rilevante nel determinare l'obesità non può essere un po' assolutorio nei confronti degli stili di vita? allora probabilmente il rischio c'è ed è una cosa che poi nella comunicazione emerge e crea anche un po' di attrito a volte nella comunità più che nella comunità scientifica nella comunità dei comunicatori un po' ridondante ma così però considero una cosa io ho detto che è una patologia multifattoriale quindi determinata da più fattori questo già vuol dire che ci sono più fattori non c'è solo quello genetico e quello genetico è sempre accompagnato da quello ambientale fanno diciamo impressione questi numeri 40-70% sono numeri alti però vuol dire prima di tutto che c'è un bel range di indecisione e comunque se stiamo più verso il 40% comunque è meno della metà quindi vuol dire che modificare il proprio stile di vita e anche il proprio ambiente è una terapia diciamo fondamentale o una prevenzione fondamentale quindi assolutamente non vuole essere una soluzione forse è un termine che colpevolizza un po' troppo non è una scusa però sicuramente è un riconoscere il fatto che ci sono moltissime persone che in realtà portano avanti uno stile di vita sano ed equilibrato ciò nonostante possono comunque essere affette da obesità o da sovrappeso perché comunque bisogna riconoscere che c'è un fattore genetico importante detto questo ci sono delle cose dei geni che sono stati identificati e ci sono addirittura dei farmaci quindi riconoscere che c'è un fattore genetico e quindi in alcuni casi si può agire con dei farmaci è molto importante ovviamente Claudia a proposito dell'interazione tra genetica e stile di vita sono molto interessanti degli studi sulle popolazioni che modificano il loro ambiente sì questo è un esempio proprio calzante popolazioni che volenti o nolenti modificano il loro ambiente nel senso che migrano che è un tema a voi caro quindi sono felice di portarlo ne parliamo spesso ci sono studi famosissimi di popolazioni magari per esempio sono famosi gli studi sugli haitiani che cambiano modificando il proprio ambiente ovvero migrando entrando a contatto con i classici paesi i cosiddetti sviluppati ad alto reddito entrano in contatto con un ambiente appunto quello che noi chiamiamo obesogenico è interessante un caso diciamo famoso nel nostro ambito che è quello dei nativi americani Pima che tradizionalmente non presentavano tassi rilevanti di sovrappeso o di diabete mentre dopo la loro entrata in riserva dopo poco cominciano a presentare dei tassi di sovrappeso obesità e diabete veramente molto elevati cioè tanto da diventare un caso studio e questo perché da una alimentazione chiamiamola frugale un'alimentazione molto semplice che avevano prima e anche sicuramente un movimento diciamo più elevato si avvicinano di più ai nostri stili di vita e il loro diciamo metabolismo ne risente e appunto cominciano a sviluppare queste patologie per ricollegarci alla domanda precedente quindi a questa commistione col fattore genetico c'è un'ipotesi quindi sottolineo che è un'ipotesi che è l'ipotesi del thrifty genotype quindi del genotipo risparmiatore che dice che ci sono delle popolazioni che nell'evoluzione si sono diciamo con successo selezionate perché hanno questo genotipo risparmiatore ovvero potevano sopravvivere in carestia perché trattenevano più energia per dirla semplice semplice questo genotipo purtroppo adesso non gli è più utile perché raramente abbiamo carestie noi poi chiaramente ci sono delle parti del mondo che sono ancora affette da questo problema ma la maggior parte soprattutto noi non ne abbiamo più bisogno però i geni non è che li cambi così ogni dieci anni e quindi questo potrebbe essere sfavorevole potrebbe averli favoriti in questa risposta veramente eccessiva perché hanno sviluppato dei tassi di obesità e diabete altissimi Claudia abbiamo capito le cause dell'obesità ma quali sono le conseguenze dell'obesità? Quello che sappiamo per certo diciamo dagli studi che abbiamo è che sovrappeso e obesità sono correlate con tassi di mortalità in realtà anche sottopeso per fare la risposta completa quindi mortalità sicuramente insomma dai dati che abbiamo poi chiaramente sono stati ormai accertati come fattori di rischio per una serie di malattie che vengono dette non comunicabili non trasmissibili cioè sono le malattie cardiocerebrovascolari che sono la maggiore causa di morte nel mondo il diabete malattie respiratorie eccetera cioè sono quelle malattie che tu non trasmetti da madre a figlio che sono le diciamo le più grandi cause di morte e disabilità nel mondo inoltre l'obesità è correlata anche con malattie epatiche malattie dell'apparato locomotorio e varie neoplasie cioè vari tumori Alla luce di questo è inevitabile chiederti quali sono le cure? Allora la prendo proprio dalla lontana la prima cura in realtà non è una cura la prima cosa è agire di prevenzione in realtà cioè è vero l'abbiamo detto le cause sono tante sono intrecciate tra loro sicuramente non è semplice però ci sono molte cose lo dicevamo che una persona può fare nel suo stile di vita nel suo ambiente per diminuire abbassare il rischio perché tanto in malattia parliamo sempre di questo abbassare i rischi e ci sono delle cose che una persona può fare per abbassare il rischio di obesità quindi la prima cosa è la prevenzione però chiaramente ci vuole un coordinamento in realtà globale ed è per questo motivo che poi l'OMS dà anche una definizione così forte perché in realtà l'OMS vorrebbe che tutti noi ci organizzassimo e creassimo una rete funzionante globale e non appunto questa gestione un po' caotica un po' banale banalizzante di questa patologia quindi cioè ci vuole una risposta scientificamente solida quindi dei protocolli quindi delle cose immisurabili delle cose che hanno un inizio e una fine quindi delle attività e anche poi appunto dei feedback che i paesi si possono scambiare in modo tale che la prevenzione funzioni e anche la cura allora parlando di cure ci tengo a sottolineare che metà della popolazione mondiale non ha accesso ai servizi sanitari e quindi chiaramente ci sono molte persone che sono proprio tagliate fuori comunque dalle cure ci sono sicuramente gli interventi sullo stile di vita perché comunque parliamo di una patologia caratterizzata da un disequilibrio tra entrate e uscite e quindi chiaramente questa è una cosa che uno in parte può modificare però ci sono poi anche le cure farmacologiche ci sono anche gli interventi chirurgici e sono assolutamente delle strategie funzionanti da prendere in considerazione e anche ovviamente ultimo ma non ultimo cure dal punto di vista della salute psicologica e comportamentale tutto questo va messo in gioco affinché si possa prevenire o curare l'obesità è una malattia cronica va trattata come le altre malattie croniche invece molto spesso viene trattata come un capriccio una mancanza di forza di volontà una debolezza una pigrizia sarebbe come dire ad una persona che soffre di una malattia cardiovascolare che è pigra ora sicuramente ci sono dei fattori personali di stile di vita che possono interagire ma molto spesso c'è una familiarità c'è un'esposizione a un certo ambiente di lavoro per esempio l'obesità essendoci un disequilibrio tra entrate e uscite chiaramente c'entrano anche le uscite quindi c'entra l'attività fisica l'esercizio fisico ma viviamo in città sempre più urbanizzate che hanno sempre meno spazi per fare attività fisica facciamo dei lavori sempre più sedentari che durano sempre più a lungo come orario di lavoro e quindi la gente cioè obiettivamente non ha il tempo di allenarsi non ci riesce quindi come si fa a dare la colpa alle persone se l'intera società non è fatta affinché queste persone poi possano prevenire o curare la propria situazione sicuramente la politica deve entrare in campo e devono essere fatte delle politiche fiscali per esempio l'etichettatura alimentare l'etichetta nutrizionale i prezzi degli alimenti le pubblicità che uno manda in onda le fasce orarie per i bambini i negozi che tu apri vicino a una scuola cioè questa è tutta politica è tutta roba che deve decidere la politica di mettersi in gioco e cambiare dunque ritieni che non ci sia ancora la sufficiente attenzione da parte dei governi assolutamente no su questo tema no claudia hai parlato dei negozi di alimentari davanti alle scuole si pensa dunque ai bambini perché non basta dire di mangiare pochi zuccheri o pochi grassi perché non è sufficiente questo è assolutamente diciamo un approccio semplicistico al problema quello di incolpare un singolo alimento ovviamente non ha mai funzionato mai funzionerà anche perché poi la risposta dell'industria è di creare cibi per proteici che non si sa bene chi debbano servire e come tant'è che i tassi di obesità e di sovrappeso aumentano quindi c'è qualcosa che non va perché poi se no la risposta delle persone dei genitori o degli adulti è di comprare il cibo light ma se io compro le patatine light che cosa cambia rispetto alle patatine normali magari poi tu ne mangi anche di più perché ti senti più tu il bambino l'adulto ti senti più tranquillo perché sono light ma alla fine che ne so c'è un taglio di calorie del 10% ce ne facciamo molto poco quindi no ci vuole un'educazione che stimoli per esempio i bambini a fare più movimento che poi è quello che sono portati a fare e a mangiare in equilibrio e anzi i bambini hanno un senso e un equilibrio innato di fame e sazietà hanno un equilibrio omeostatico molto forte che poi noi da grandi perdiamo perché siamo vittime di tutta una sovrastruttura del mangia nonna perché sei troppo magro perché se no è peccato la famiglia perché i bambini in Africa queste sono tutte cose sbagliate il bambino ha una fortissima capacità di autoregolarsi se noi lavoriamo perché la mantenga avremo degli adulti capaci di sentire i propri segnali innati di fame e sazietà Claudia un dato personale io un paio di anni fa ho fatto una dieta nella quale ho perso parecchi chili però negli ultimi tempi li ho ripresi quasi tutti perché succede questo nonostante i miei sforzi allora ci sono vari motivi diciamo che da una parte ci sono dei meccanismi anche qua ho usato ancora questa parola omeostatici di equilibrio c'è una sorta di set point regolato di peso verso cui tendiamo e certe volte ci si mettono dei meccanismi biologici e fisiologici di contrasto che tendono a farci riprendere peso senza che noi lo vogliamo e senza che ce ne accorgiamo certe volte sono molto potenti e si vedono molto poi nell'obesità a volte banalmente ci sono delle cose che noi non sappiamo degli alimenti tipo la densità energetica quindi alimenti che sono piccoli di volume ma hanno moltissima energia e noi mangiamo pensando che il volume sia tutto invece e sono degli alimenti che di solito sono molto appetibili e per motivi anche evoluzionistici noi siamo attratti da questo mangiamo molto di più di questi rispetto ad altri un'altra causa banale sono trattamenti dietoterapici sbagliati quindi se ti hanno fatto una dieta particolarmente restrittiva il tuo corpo farà di tutto per non rispettarla oppure la rispetterà per un certo periodo di tempo e poi quando finisce questo periodo di estrema privazione il corpo cercherà di riprendere tutto quello che ha perso perché non è stata una cosa equilibrata poi ci sono degli studi che ci fanno vedere che a volte dipende dal peso massimo raggiunto nella vita prendi due persone uguali dello stesso peso una ha raggiunto un peso massimo maggiore nella sua vita rispetto all'altro quando perdono lo stesso tipo di peso quello che aveva raggiunto un peso massimo maggiore tende a riprendere più peso oppure l'insoddisfazione nei confronti del peso che è stato raggiunto questa pure è una cosa che caratterizza le persone che poi riprendono peso e spesso è collegato ad un profilo psicologico di pensiero dicotomico ovvero il pensiero dicotomico è quel pensiero che noi chiamiamo tutto nulla bianco o nero ok le cose o vanno bene o vanno malissimo non c'è una scala di grigio o raggiungo il mio peso forma che mi sono messo in testa oppure non va bene queste persone sono caratterizzate da altissima insoddisfazione e anche non riescono a mantenere il peso quindi metti caso che una persona si mette in testa che deve perdere 20 chili se ne perde 15 se ha un tipo di pensiero flessibile tendenzialmente potrebbe essere felice riuscire a mantenere questa perità di peso se ha un tipo di pensiero dicotomico è molto probabile che si sentirà un fallimento per aver perso solo 15 chili anziché 20 e non farà nulla per mantenere questo peso perché comunque è considerato un peso non accettabile Claudia c'è un argomento di cui secondo noi si parla troppo poco la correlazione tra obesità e alcolismo è vero se ne parla molto meno rispetto alla correlazione tra obesità e cibo si sa anche poco è una cosa ancora un po' fumosa devo dire che le cose sono correlate da tre aspetti uno l'obesità quando c'è concomitante l'alcolismo va ad aumentare di due o tre volte il rischio di malattie epatiche rispetto all'alcolismo da solo senza obesità e questa è una cosa la seconda è che quando c'è una storia familiare di alcolismo pare che ci sia una maggiore predisposizione all'obesità e la terza è che c'è soprattutto con appunto alcolismo o binge drinking quindi bere molto alcol in ristrette unità di tempo c'è una maggiore correlazione con obesità e sovrappeso probabilmente sia per questioni ambientali quindi per l'ambiente in cui si è che è maggiormente obesogenico maggiori snack ma anche inibizione del senso di fame e sazietà e anche metabolismo alterato quindi sia spesso una intolleranza al glucosio sia spesso una riduzione della massa muscolare e sia spesso un maggior immagazzinamento di grasso nella puntata sulla dieta mediterranea abbiamo ricordato come essere sovrappeso nel passato fosse un fattore positivo che veniva considerato appunto segno di benessere economico oggi invece l'obesità subisce una stigmatizzazione da parte della società moderna molto forte sì questo probabilmente soprattutto perché viene vista appunto semplicemente come una responsabilità personale un mero fattore di forza di volontà e quindi le persone con obesità vengono appunto tacciate di essere pigre svogliate anche brutte o di cui non si può avere fiducia eccetera e questo diciamo chiaramente è una cosa molto grave perché lo stigma ha diverse implicazioni importanti tra cui c'è il fatto che poi le persone con obesità si rifiutino di andare a farsi curare anche per altre cose ovviamente perché comunque hanno paura di venire giudicati e che tutto venga appunto imputato semplicemente alla loro quantità di tessuto adiposo oppure addirittura ci sono persone con obesità che hanno scelto o che sono riuscite a entrare in contatto con terapie farmacologiche o con la chirurgia che addirittura lo tengono nascosto perché hanno paura che le persone dicano ah hai trovato la scorciatoia ed è molto grave perché ovviamente hanno bisogno di follow up per esempio dopo la terapia chirurgica e addirittura lo nascondono ad alcuni medici ed è molto grave per quanto riguarda lo stigma da parte del personale sanitario che si è visto che tende a dedicare molto meno tempo alla visita ad una persona con obesità tendono a prescrivere meno analisi per cercare di capire cosa c'è dietro e poi a livello sociale se l'obesità viene visto solo come un problema determinato dalla pigrizza delle persone è ovvio che non ci saranno investimenti nella ricerca perché uno dovrebbe investire su una cosa che dipende dalla persona singola e quindi si vede che per esempio in America c'è un finanziamento da 5 a 10 volte maggiore per malattie come l'HIV e il cancro che per carità assolutamente abbiamo bisogno di ricerca piuttosto che però per l'obesità che invece interessa come malattia cronica molti più americani come sempre citiamo alcuni titoli per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata comincio io la strana storia dell'obesità di Sander Gilman e il mulino io ne cito due vivere senza dieta di Eugenio Del Toma il pensiero scientifico editore e fat shame lo stigma del corpo grasso di Amy Herman Farrell di Tlon Edizioni Claudia prima di salutarci tocchiamo un ultimo tema che ti riguarda il tuo impegno come attivista per i diritti umani sì è un tema che mi tocca molto mi interessa molto cerco di fare quello che posso ad esempio collaboro spesso con SOS Mediterranea supporto il loro lavoro a bordo della Ocean Viking che appunto è questa nave ormai famosa penso che aiuta i migranti in difficoltà nel Mediterraneo sembra una cosa totalmente scollegata dalla nutrizione in realtà c'è molto di nutrizione dietro la migrazione e ho fatto dei contenuti con loro per spiegare per esempio come si mangia a bordo della Ocean Viking quali sono i kit di primo soccorso che vengono dati ai migranti il problema della disidratazione eccetera sono molto fiera di poter accendere una luce su questo problema assolutamente siamo d'accordo con te e hai motivo di esserne fiera Claudia è stato un grande piacere averti qui con noi e speriamo di riaverti presto grazie noi ricordiamo a tutte e a tutti la tua pagina social da seguire assolutamente quasi dietista Claudia e io dico a tutti quanti di seguire sia la pagina social Doi Podcast sia ovviamente di seguire il podcast perché è veramente super interessante avete ascoltato Doi denominazione di origine inventata un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati produzione di Gabriele Beretta per One Podcast e Daniele Soffiati